Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovissimo video. Parliamo di oroscopo, signori, vediamo cosa succede nel mese di marzo 2023 per tutti i nati sotto il segno del sagittario. Cominciamo subito con il dire che questo mese che sta alle porte, che ormai sta iniziando, inizia con qualche incertezza, qualche incertezza che è targata a Marte in gemelli, che fino al giorno 24 renderà tutto l'andamento dei tuoi rapporti un po', come dire, ballerino. E con Mercurio in pesci fino al giorno 19 non sarà assolutamente facile comunicare in modo chiaro con chi ti sta vicino nella vita di tutti i giorni, forse perché anche gli altri tenderanno a non essere del tutto proprio chiari con te. Una certa impazienza, però, frutto della luna piena del giorno 7, ti porterà a esprimere apertamente i tuoi dubbi verso il partner, così da mettere i famosi puntini sulle i. Alcuni confronti ti vedranno un po' più nervoso, un po' più emotivo, così da cercare quell'occasione che stavi in realtà già cercando per poter raggiungere un maggiore livello di intimità proprio con chi ti sta molto accanto con il partner. A sollecitare una decisione importante potrebbe essere anche una notizia di lavoro, che potrebbe comportare un cambio di casa, o stravolgere la routine familiare. Ci sono scelte importanti da fare, alle quali, nel corso dell'anno, non potrai sfuggire più di tanto, preparati. Saturno, il 7 marzo, entra in pesci, sollecitando una definizione e consolidamento di ciò che nella tua vita è poco strutturato, precario. Il pianeta metterà a dura prova tutto quanto hai iniziato sette anni prima, in concomitanza dell'ultimo ritorno di Saturno nel tuo segno zodiacale, o nel 2019, con il transito di Giove nel tuo segno zodiacale. Il severo pianeta del tempo potrebbe rendere la tua vita un po' meno semplice, spingendoti alla calma e alla riflessione. Tutto, in vista di una rielaborazione, interiore necessaria a capire e ridefinire le tue priorità. Approfitta di questa fase importante per costruire e consolidare le, fondamenta, del tuo mondo interiore, o per sganciarti da un passato che non ti rappresenta più. A darti una considerevole mano d'aiuto del resto ci sarà Plutone, che nella giornata del 23 passerà in acquario, aiutandoti a esprimere al meglio la tua creatività, il tuo potere personale, le tue capacità. Grazie a questo sostegno speciale saprai trovare soluzioni creative a problemi complessi, trasformare una sfida in un'opportunità, affrontare gli ostacoli con coraggio. Gli strumenti per intraprendere i primi passi vero il cambiamento te li darà la luna nuova di giorno 21, che insieme al sostegno di Mercurio spazzerà via ogni residuo di incertezza, indicandoti la via. Potrai riscrivere un nuovo capitolo relazionale, esplorare le tue passioni in maniera sana e arricchente, farti avanti con chi ti piace, scoprire nuovi interessi. Da non sottovalutare la proficua interazione tra Giove e Mercurio a fine mese, che potrebbe concretizzarsi con una proposta di lavoro, un riconoscimento importante, una notizia che ti lascia di stucco. Martegiorno 24 lascia il segno dei gemelli, sciogliendo finalmente la noiosa opposizione al tuo sole. Da questo momento in poi ti sarà più facile vivere l'amore e le tue relazioni in modo gioioso, in sintonia con i tuoi desideri, con chi ti fa battere il cuore. Basta compromessi. Da oggi ad accompagnarti nel tuo viaggio ci saranno solo le persone che ti faranno entrare nuovamente in contatto con i tuoi sogni, le tue aspirazioni, i tuoi grandi ideali. Tutto il resto è noia. Siete sempre pieni e piene di energia che tirate fuori dal nulla e riuscite in un battibaleno a superare i vostri limiti e a sostenere sfide che per gli altri sembrano impossibili. Non vi tirate indietro nemmeno quando si tratta di confrontarsi con molta facilità con gli altri e quindi vanno benissimo il pugilato, il basket, la pallavolo o altri sport che ti permettono di motivare e sostenere una squadra. Benissimo anche pratiche estreme come i tessuti aerei e loti yoga che vi permette di bruciare calorie e raggiungere ottimi risultati a livello fisico e mentale. Siete un segno di fuoco e quindi lo sport vi serve anche per mantenere il focus su voi stessi e non rinunciate al movimento per nessuna ragione al mondo. Siete inguaribilmente romantici e romantiche e dovreste poter contare sulla vostra voglia di stare al mondo in modo spensierato e anche bellissimo. Avete la voglia di giocare e la magia che manca a molti. Toglietevi dalla testa tutti i pensieri che vi portano verso al pesantezza e cercate di affondare le vostre radici dentro sentimenti profondi e positivi. Cercate sempre l'armonia e non preoccupatevi di chi ha bisogno sempre di fare polemica o pettegolezzo. Spiegate le vostre vele e andate dritti e dritte verso le cose che vi piacciono. Non perdete tempo con coloro che non sono ironici e non sanno ridere di se stessi. Abbiate sempre la giusta spinta verso l'ottimismo, anche quando vi sembra che le certezze stiano crollando e gli altri se ne freghino della voglia di migliorare se stessi e l'ambiente in cui si muovono. State solo con coloro che hanno voglia di brillare.